buongiorno ragazzi buongiorno tutti in questo nuovo video allora purtroppo vado a bere perché sono annoio sono le 10 di mattina non so che cazzo devo fare mi abbruffo le pagine 12 con mio amico troppo è malato c'è un malo influenza e non può uscire quindi mi attacco al cazzo una giornata di merda troppo la mia vita è sempre stata sempre così sempre un lop continuo di autodistruzione di noia un lop mortifero perché troppo non so bello neanche perché se ero bello c'era qualche troia che non ci stava con me e mi divertiva andava a divertirmi a trombare di qua di là invece no devo farmi le palle ma giustamente mia ex amica cazzo mi serviva mai per pisciare solamente ma giustamente perché voi la dite di merda preferite dalla alle altre persone anche se è ex amica del cazzo no diceva sempre spesso eh ma mio che tuo carattere non mi piace non mi interessi no si state sinceri quando dite una cosa dite quando una persona dice che una persona il carattere non mi piace sta dicendo che esteticamente non vi aggrada o non vi aggrada abbastanza altrimenti non vi preoccupare ci porterebbero tutti di più faccio esempio il carattere non mi piace se non mi piace non mi piace se non mi piace ma non mi piace quello che dico io quando dicono che il carattere non mi piace stanno dicendo che esteticamente non gli aggrada altrimenti non mi preoccupare ci porterebbero di tutti di più faccio vedere se un belloccio si comporta male come ah si si fanno le croci rossine sicuramente se o malessero vogliono cambiarlo poi vengono picchiate vengono fatte ma mi scorcio anche il cazzo di parlare delle donne perché voi donne siete anche l'idea di merda troia non ci avete manco il coraggio di me non faccia eh ma stai sbagliando quando mai che sanno pure poi non è utile che dite ci sono i cessi che hanno le fidanzate io pure io sono stato fidanzato se non c'è esso con una ragazza più carina di me chissà quale miracolo è successo perché non c'avevo un cazzo io c'avevo giusto i soldi e basta mi servino per uscire allora dico io no si può capitare qualche cesso sta con una belloccia ma non ci ho partito questi cessi almeno il 99% di questi casi c'è gente che c'ha i soldi gente che sta bene le fa divertire perché una ragazza non si va a sporcare mai si va a rompere un belloccio per un ciad detto questo ragazzi non sopporto i sfruttatori cioè porca porca puttana ieri mio cuginetto mi ha chiesto un passaggio per andare a comprare scarpe l'altro ieri questo qua a me è accompagnato per accompagnarmi per favore abbiamo le scarpe però manca il gesto di non ti preoccupare metto 5 euro di benzina dicevo che questo qua ha speso 130 euro per un paio di scarpe però non c'è manca 5 euro per la benzina c'è tempo gente tutto stessa tutti uguali non ci fosse qualcuno che gli dice vabbè per quando esci offri no si fermano aspetta un attimo calmati su questi soldi perché non ce ne hai tanti non so come ho vecchio lo offro pure io solo uno è un signore amico mio lo vedo poco però quando lo vedo offre sempre lui e devo fare qualche volta il gesto comunque c'è i soldi aspetta caro amico offro pure io in giro lui insiste non ti preoccupare poi se insisto di più vabbè dice ok guarda te paga anche tu ma sono poca la gente che ha la benzina sono signori che fanno giusto il calcolo diciamo vabbè io metto questo facciamo 50 euro a testa facciamo 25 euro a testa ma ci vado la domanda che c'è tu offri qualità quando vuoi in un passaggio non mettono benzina non mettono niente cioè sembra l'assurdo proprio ma io sono abituato a prendere l'illusione alla gente che devo fare sono anche stufo ciò bevo che vedo le cose storte prendo le cose storte finisco per incazzarmi però io non voglio più incazzarmi basta che ci bevo sopra è tutto risolto perché sinceramente io non voglio avere l'ottore di coglioni più con le donne ho chiuso sinceramente se qualcuno mi mostrerà che sto sbagliando sono prima di dire scusatemi scusami cara donna è sbagliato che sta qualche esemplare diversa dagli altri con questa buona giornata e buone cose grazie